Per competere con discount, operatori di e-commerce e altri concorrenti, oggi la customer experience è tutto. E il cliente vuole che sia tecnologica e personalizzata. Presentazione del PS20, la nostra soluzione di personal shopping di nuova generazione. Vediamo come il PS20 può rivoluzionare l'esperienza d'acquisto dei vostri clienti. Innanzitutto occorre sbloccare il dispositivo, operazione rapida e semplice che si può eseguire con una carta fedeltà o con qualunque altro identificativo univoco da voi assegnato. Subito dopo il cliente può iniziare ad acquistare. Un messaggio di benvenuto personalizzato mette subito a proprio agio il cliente che può quindi collegarsi alla propria lista della spesa online, organizzata per corsie. Funzionalità di vendita assistita permettono al cliente di scansionare buoni sconto e caricare offerte promozionali e articoli complementari consigliati. Nuovi sensori consentono di eseguire le scansioni a mani libere permettendo al cliente di passare gli articoli accanto al PS20 e inserirli nel carrello senza premere il grilletto. Il supporto della simbologia Digimark rende la spesa più rapida e comoda in quanto non è necessario trovare il codice a barre. Perché non suggerire ricette per gli articoli scansionati e indicare dove trovare tutti gli ingredienti con l'opzione di poterli aggiungere alla lista della spesa? Il PS20 è dotato di una fotocamera anteriore che rende possibile il posizionamento indoor, offrendo al retailer più opportunità di vendita. È infatti possibile usare questa funzionalità per creare offerte in base alla posizione specifica del cliente nel negozio oppure guidarlo agli articoli che sta cercando con l'aiuto di una mappa. Il nuovo microfono migliora l'interazione con il cliente che può utilizzare la tecnologia Push to Talk per parlare direttamente a un addetto alle vendite o la funzione di riconoscimento vocale per inviare richiesti o comandi. Lampadine trovate e prese e arrivate in cassa non c'è bisogno di svuotare e riempire di nuovo il carrello. I clienti possono controllare quanto spendono durante lo shopping, programmando meglio gli acquisti e le statistiche indicano che così tendono a spendere di più. Con il PS20 si paga senza intoppi e senza stress, niente code, attese o perdite di tempo. Potete anche usarlo in combinazione con Smart Lens o l'RFID per identificare gli articoli nel carrello. Dopo aver eseguito la scansione del codice a barre di fine spesa, i clienti possono pagare al chiosco. Essendo un dispositivo multifunzione, il PS20 può anche essere usato per rivoluzionare le attività quotidiane del personale di vendita, permettendo ai retailer di sfruttare al massimo il loro investimento. Potete usare il PS20 per operazioni quali evasione in negozio di ordini online Click & Collect, controlli di magazzino, rifornimento delle scorte, assistenza ai clienti in corsia e gestione dell'inventario in tempo reale. Con il PS20 è possibile effettuare anche le verifiche dei prezzi e i controlli di conformità dei prezzi per le promozioni in negozio. La soluzione di Personal Shopping di Zibra ha le carte in regola per aumentare incassi, fidelizzazione, affluenza, soddisfazione. Potete permettervi di ignorare questo potenziale? Scoprite di più su www.zibra.com.ps20